agenti alfa bentornati sul canale oggi un tema un po diverso ma davvero l'andamento di una testata o il valore di un personaggio si valuta solo col numero corrente che abbiamo letto oppure con l'albo sporadico che ci siamo portati a casa ecco credo che questa sia una riflessione interessante da fare perché troppo spesso vengo deluso da alcuni video che vedo su youtube in quanto non mi portano nessuna informazione perché il giudizio estremo su un determinato fumetto a me non è utile non mi interessa vedere che anche il mio personaggio preferito sia un mese osannato il mese dopo considerato una merda scusate le parole non ha alcun senso a me interessa vedere qual è l'andamento della testata cosa ci offrono mensilmente gli autori come il parco disegnatori e laddove è possibile cercare di capire sul lungo periodo cosa vedremo perché magari qualcosa che si sta preparando oggi lo vedremo tra un anno e siccome penso che più o meno siamo tutti lettori affezionati determinate testate secondo me è anche logico ragionare sul lungo periodo non solo sul numero contingente che ci può soddisfare o meno guardate che ci sono tanti esempi contradditori nella storia del fumetto non sono di certo io a scoprire la verità però vale la pena fare delle riflessioni perché magari si danno giudizi trancianti oppure si danno giudizi superlativi su qualcosa che in realtà sta nel mezzo e io da lettore quando mi voglio approcciare a qualcosa quando da content creator cerco di dare un'informazione che mi guarda cerco di restituire un equilibrio in modo tale che comunque ci si possa fare un panorama poi spenta la telecamera io a casa mia possesso essere anche un ultras di nata never o un ultras di max bunker però poi in realtà quello che cerco anche di offrire anche un po un panorama di riflessione sulle cose perché se no allora nel senso non do un valore aggiunto no allo scambio di idee allo scambio di riflessioni come dico sempre sono paradossalmente contento quando un albo di nata never ad esempio che non è piaciuto a me piace a molte altre persone ma è quello il bello nel senso che comunque vuol dire che ce n'è per tutti e andiamo a coprire una una gamma di cose che accontenta un pubblico inabitabilmente abbastanza vasto ci sono degli esempi secondo me importanti nel corso degli ultimi 10 20 anni che dimostrano come veramente essere assolutisti dopo la lettura di un numero sia una stupidaggine nel senso che non dà alcun tipo di informazione sull'andamento del personaggio l'esempio più clamoroso che mi viene in mente è quello del morto cioè ragazzi il morto quando è uscito in edicola sembrava un fumetto fatto da direttanti allo sbaraglio con tutto il rispetto che posso avere per paolo telloli e con il suo staff guardate che il morto che abbiamo oggi il numero che abbiamo in edicola ancora adesso è un capolavoro rispetto al numero 1 io mi ricordo di aver visto qualche video dove il numero 1 del morto veniva deriso dove si voleva tagliare le gambe questa pubblicazione ebbene oggi secondo me il morto ha delle caratteristiche che come originalità e come attualità è un nero che dà dei punti a diabolic poi è chiaro che diabolica la sua storia eva e diabolic sono due icone hanno fatto la storia e chiaramente le testate non sono paragonabili ma i temi del morto diabolic se di sogna quindi dobbiamo anche capire come vanno le cose no com'è l'evoluzione del personaggio nel tempo cioè essere drastici ripeto non ci dà alcuna informazione perché ragioniamo sempre di pancia ragazzi facciamo una bella riflessione invece con la testa cerchiamo di non dare messaggi o negativi esagerati o positivi esagerati in un altro senso perché se no diventiamo solo uno show diventiamo solo un manifesto fine a se stesso invece sarebbe bello anche spiegare la crescita o comunque l'evoluzione di quello che stiamo leggendo almeno questo è il mio parere altro esempio l'ex weaver ecco l'ex weaver l'ennesima testata spin off di not and never che ha avuto una vita editoriale importante perché ha chiuso ragazzi leggetevi le storie e lo capite da solo perché l'ex ha chiuso era una serie infantile che non ha niente a che fare con not and never strizzava l'occhio ai manga ma le ambientazioni erano veramente dal mio punto di vista estremamente di basso livello era una lettura divertente però dopo 20 30 numeri di quella roba lì non se ne poteva più io l'ho preso perché chiaramente prendo tutto del mondo di nata never però è chiaro che quella serie non avrebbe retto un tempo aveva dei numeri per continuare a stare in edicola ma paradossalmente la qualità delle storie di l'ex è migliorata nell'ultimo periodo quando l'ex è uscita dall'agenzia alfa le hanno dato una connettazione molto più seria molto più avventurosa e anche se la testata ha chiuso lo stesso però paradossalmente nell'ultima parte delle vite editoriali ha avuto un'impennata tanto che poi l'ex l'abbiamo ritrovata anche sullo spin off di squadra fantasma ma ora che la ricordiamo con così tanta nostalgia l'ex andatevelo un po a rileggere e vedrete quanta roba assolutamente evitabile che è contenuti quei 119 numeri ora c'è l'effetto nostalgia si ricorda l'ex perché simpatica perché imbracciava i suoi fucili ma quella serie lì si capisce facilmente perché ha chiuso quindi a volte non abbiamo la lucidità di di mettere insieme i tasselli per descrivere un panorama altro personaggio che oggi è sparito napoleone napoleone a mio modesto parere è una serie meravigliosa è una serie straordinaria non solo perché ci ha messo le mani ambrosini ma perché è stata raccontata in un modo molto diverso da quanto si faceva abitualmente in bonelli è chiaro che se uno magari casualmente si è trovato a leggere qualche storia un pochino più pesante soprattutto dalla seconda parte della vita editoriale dove ambrosini allentato un po la presa dove si vedeva un napoleone particolarmente donaiolo che comunque poi sfogava le sue frustrazioni con i suoi tre spiritelli che potevano essere anche molto antipatici da tanti punti di vista allora lì trancia la storia perché dice questo fumetto troppo onirico questo fumetto troppo mentale che barba che noi eccetera eccetera in realtà la storia di napoleone è una serie molto molto bella e anche quando è stata ripresa sulle storie c'è riuscita a restituirci con l'atmosfera lì è una serie veramente unica che probabilmente solo ambrosini poteva concepire però è chiaro che a suo tempo io me lo ricordo perché quando leggi migliaia di fumetti per tanti anni poi te lo ricordi cosa diceva la gente io mi ricordo quanto napoleone fosse stroncato perché c'era troppo da pensare perché era un fumetto troppo riflessivo perché non si comprendeva che i suoi amici spiritelli immaginari in questo mondo onirico avessero in realtà uno scopo molto nobile all'interno delle delle storie eppure lo si andava a segare quando invece oggi si age napoleone dal numero uno fino alla fine comprese le tre storie sulle storie scusate gioco di parole si capisce lo spessore di questo fumetto e quindi attenzione lo ripeto per l'ennesima volta attenzione al giudizio su sulle storie e sui singoli numeri perché si cade veramente in errore in modo clamoroso vi faccio un esempio molto personale io ho seguito Dylan dog almeno fino al numero 200 poi in modo saltuario io a volte vedo esaltare magari il singolo numero recentemente ma poi se vado bene a scavare vedo che il giudizio medio è piuttosto basso ecco anche lì io lo so che Dylan dog è un'icona però in questo caso il giudizio è trasformato dall'altro punto di vista dico evitiamo di esaltare un fumetto e farlo sembrare più di quello che negli ultimi 3-4 anni è dimostrato di essere perché se io mi approccio e magari un singolo album è bello e il mese dopo poi fa cagare le recensioni che ho visto la tendenza delle recensioni non sono state un buon servizio quindi mi piacerebbe ripeto avere un giudizio medio di quello che si osserva e non vedere neanche la persona che solo perché non gli è piaciuto un numero smette di comprare la serie smette di comprare il personaggio ma secondo me è una cosa infantile questa nel senso posso posso aspettarmelo da un ragazzino ma non da persone di 30 40 anni insomma credo che fare un servizio è un'altra cosa al di là poi del piacere che abbiamo noi di leggerci la singola testata però io complessivamente dico che Dylan dog è una serie che ha fatto la storia secondo me ormai da tanti anni vive una stagione di appannamento perché per me Dylan dog ha finito la sua funzione non perché non ci siano degli spunti narrativi interessanti da sviluppare ma perché secondo me Dylan dog ha terminato la sua funzione dopo un certo ciclo di vita per cui un rinnovamento paradossalmente è una forzatura al personaggio per come è nato questo è il mio modestissimo parere insomma poi si mettono sulle spalle di Dylan dog anche troppe cose troppi significati rispetto a quello che è in realtà e quindi si accetta forse un po troppo tutto anche in modo un po mio per secondo me però uno chiaramente che che ha sempre comprato tutto di Dylan dog giustamente lo può anche continuare a fare perché d'altronde al cuore non si comanda e su questo alzo le mani perché non posso che dare ragione a collezionisti e a persone che si innamorano di loro personaggi preferiti due parole anche su Nathan io dico che dal 2021 un poi la qualità media di Nathan never è molto alta credo che anche diversi youtuber se ne siano accorti e ho visto anche dei video riflessioni molto interessanti dalla redazione giungono notizie che ci sono per fortuna molti nuovi lettori che sono anche proprio interessati a interagire con la redazione con gli autori credo che questa cosa abbia sempre un po contraddistinto al mondo di Nathan never che anche un forum di discussione estremamente severo nei confronti del personaggio quindi per dire parlo di persone che dovrebbero essere di parte quando invece sono i primi a entrare a gamba tesa però a meno sono a discussione di spessore anche su Nathan quando un numero che per me è normalissimo viene esaltato all'ennesima potenza da qualcun altro che poi mese dopo lo stronca io dico c'è qualcosa che non va perché io voglio vedere l'evoluzione cioè voglio vedere non mi si può dire testata la frutta e mese dopo capolavoro non funziona così io devo capire come sta andando cioè se io voglio dare un'informazione dico questo mese in tono minore questo mese buono questo mese disegno un po così così il mese prossimo c'è un disegnatore storico una colonna di nata anche una garanzia c'è michele me della sceneggiatura magari mi aspetto qualcosa di un po più interessante no mi sento un po in una botte di ferro con questi autori e descrivo come sta andando le basi che da tre anni si stanno mettendo su Nathan never noi le vediamo piano piano nel tempo non è una testata che si può giudicare da un albo questo una merda questo un capolavoro c'è gente che magari può farsi un po le beffe di nata o lo giudica male che magari è tre anni che non legge un albo c'è un album come storia di horror se tu non lo leggi non puoi farti un'idea di come sta andando Nathan never capite cioè ci vuole equilibrio quindi né capolavoro né merda e questo video qui questo tipo di significato andate a vedere nel canale ho già cercato di spiegare diverse volte io voglio un'informazione equilibrata c'è al giudizio di pancia 47 anni non mi interessa cioè io voglio approfondire voglio sapere cosa c'è dietro non mi interessano i cinque euro spesi per il singolo albetto che magari li posso anche buttare via perché avevo voglia di intrattenermi magari compro anche una testata che ho tra le mani sull'altuaria mente a me interessa conoscere e capire io ad esempio vedo molto spesso i video su dumpier pur non comprandolo perché mi interessa davvero capire com'è e vedo che purtroppo ci sono talmente tante lamentere che mi scoraggiano nell'acquisto quindi probabilmente vuol dire che l'andamento ormai è quello c'è un andamento in discesa già io l'avevo lasciato perché era pesante le video recensioni che vedo mi confermano quel tipo di andamento e quindi non sono uno stimolo a proseguire ma se io sapessi che c'è alle spalle un disegno per andare incontro a nuove strade che c'è un trend di crescita negli anni chissà magari potrei anche tornare a comprarlo cioè i giudizi sono devono essere veramente molto molto moderati secondo me io ho mio figlio piccolo che fa i video ci sta che lui si esalti e urli quando fai video per il suo canale di youtube ma è mio figlio che ha 12 anni nel senso io voglio informazioni mi piace un bel racconto come fa sebi mi piace un bel racconto come fa bandit xp come fa ocus ai bar mi piacciono le riflessioni anche se ora registra pochi video di canna tv di fabio di loro profile che sono tutti amici di ali che comunque ci racconta sempre bene il panorama di land dog ma gli estremi non mi interessano cioè non mi danno alcuna informazione gli estremi sono solo per fare visualizzazioni per mettere titoli giganteschi sulle copertine tipo spacco tutto bruciamo tutto di qua di là che però non restituiscono niente io voglio informazione cioè io sono i miei amici mi chiamano tutologo perché io sono un po un'enciclopedia vivente quindi ho bisogno di informazioni non ho bisogno di concetti a spot quindi mi piace approfondire mi piace nel profondo ho deciso di comprarmi il carry cross che ne abbiamo parlato ma io mi recupero tutto carry cross perché voglio capire come max bunker ci ha lavorato e quindi lì dopo darò una mia personalissima opinione sull'andamento ma non sul singolo numero che magari c'è il mese che è andato male che è una cagata pazzesca altro esempio di cose che invece sono esemplificative in negativo alan ford dopo tanti tanti anni che chiunque lo legge fa una recensione negativa possiamo dire che alziamo le mani e ci rendiamo conto che ha la frutta ma sono anni che io vedo solo recensioni negative su alan ford e io che ogni tanto lo compro ok i gusti sono gusti ma anch'io mi sento di andare in quella direzione lì che alan ford è alla frutta però sono anni che è così cioè non c'è neanche il numero che eccelle da dire ho questo qua risollevo la testata e anni che è così allora si può dare ahimè anche se poco rispettoso un giudizio un pochino più tranchante sulla voglia gli stimoli di max bunker di andare avanti ma non mi si può non si può dare un giudizio su sull'andamento di nata never senza conoscere delle storie che sono dei capolavori cioè ma veramente ma che servizio è cioè non è proprio un servizio altra cosa e finiamo con le mode le mode del momento che sono state dragonero samuel stern calia attenzione a costruire delle leggende intorno ai personaggi perché poi vediamo che stringi stringi nodi vengono al pettine dragonero secondo me è un fumetto stupendo dal punto di vista dei disegni e mi dicono molto bello dal punto di vista delle trame negli ultimi anni anche con le varie serie che si sono succedute cominciano a sentirsi scricchioli peraltro scricchioli su una serie che non è che vende centomila copie dragonero vende come nata never quindi tutto questo miracolo di nuova generazione di dragonero in realtà non esiste cioè è una proposta interessante per un pubblico diverso con storie molto belle molto fresche disegni super attuali probabilmente il parco disegnatori dragonero è tra i top alabonelli su questo sfido chiunque a dire il contrario perché è un dato di fatto però quando si costruiscono i miti poi bisogna vedere se a lungo termine reggono guardate samuel stern samuel stern tutti a recensire samuel stern fondiamo il fan club fondiamo la fanzine facciamo una mega comunità samuel stern dopo cinque anni è esasperato gli attori e se ne sono resi conti anche gli editori quindi voglio dire attenzione attenzione diamo tempo vediamo sul lungo termine come è andazzo non creiamo miti da un lato e non gettiamo merda su invece chi sta cercando di rimanere a galla con dignità proponendo qualcosa di nuovo e cercando di magari di ricostruirsi una seconda vita editoriale questo secondo me è quello e sono i concetti che noi gestori di piccoli canali che creiamo contenuti dobbiamo secondo me trasmettere ad esempio ho letto tutti i numeri della saga su super mike farò un video complessivo dirò la mia ma io mi sogno minimamente di dire che zagor deve chiudere che zagona una merda dirò che alcune storie zagor mi sono piaciute altre no poi nel senso l'andazzo della serie lo lo dirà mercato lo dirà il pubblico dei lettori lo dirà a lungo termine quello che succederà mi pare che le continue nuove pubblicazioni su zagor stiano a dimostrare che invece la testata è tutto sommato in salute che la gente segue quindi equilibrio equilibrio o meglio giudichiamo il singolo albo esprimiamo un parere nel dire secondo me bello brutto entusiasmante meno entusiasmante ma non smontiamo la serie non smontiamo il personaggio soprattutto quelli di cui abbiamo una conoscenza veramente minima oppure nei confronti di quelli di cui conosciamo poco se non il mito dei primi cento numeri che questa veramente è una di quelle cose che rovina secondo me il il panorama del fumetto italiano per cui ecco lo risemplifico niente da dire ripeto niente da dire sui gusti personali e giudizi sul singolo albo ma cerchiamo di contestualizzare quello che leggiamo cerchiamo di valutare l'andamento di una testata su due su tre su quattro anni vediamo se ci sono dei progetti se ci sono delle macrotrame vediamo dove si va a parare cerchiamo di capire se quello che si semina oggi avrà un bellissimo sviluppo magari fra due anni ragioniamo di più diamo più elementi di utilità per chi si vuole approcciare al mondo del fumetto qualunque siano i suoi gusti horror fantascienza giallo western non mi interessa ognuno ha i suoi gusti ma non demonizziamo quello che non conosciamo perché sono stufo e arcistufo di vedere giudizi su cose che non sono conosciute veramente cioè non abbiamo ancora capito che non può funzionare così equilibrio ragazzi equilibrio grazie a tutti